Serve muoversi soprattutto, siamo Carlo in piena Move Week Lo so, lo so Ve l'hai accorto? Sì, soprattutto perché sono già a dieta di mio e quindi siccome parliamo di obesità L'hai presa in anticipo quest'anno L'ho presa in anticipo, sì sì Di obesità di muoversi che fa bene, tutte queste cose qua Sono al nono giorno Grandissimo, grandissimo, questo non si può fare, dobbiamo seguire da vicino eh questa cosa qua Sì sì, la racconto tutta sul mio Instagram infatti Bravo, io non sono su Instagram, non lo sapevo Allora invece parliamo della Move Week con Vincenzo Manco, presidente del WISP Niente po' di meno che, benvenuto Benvenuto, grazie, grazie a voi, buongiorno a voi e ai radioascoltatori Allora, allora, una settimana di mobilitazione in Europa Per promuovere il movimento, gli stili di vita sani Ma una settimana non basta no però Cioè il messaggio è cominciamo questa settimana e poi andiamo avanti tutto l'anno Sì perché purtroppo oggi, almeno per quanto riguarda i dati Istaz che ci vengono consegnati sulla pratica sportiva nel nostro paese Noi siamo ancora, diciamo, maglia nera per quanto riguarda la fedentarietà, l'inattività e le forme di obesità In tutte le età, tra l'altro, non soltanto Perché ricordiamoci che l'obesità si combatte non solo mangiando meno ma muovendosi Soprattutto muovendosi Però se non ti muovi un po' E poi se ti muovi puoi mangiare di più E questa è la vera cosa È sicuramente meglio Puoi mangiare di più è sicuramente meglio Quindi siamo maglia nera in Europa Siamo maglia nera in Europa insieme a Grecia e Portogallo Siamo circa, intorno al 40% complessivo Siamo più di 23 milioni di sedentari nel nostro paese Quindi questa settimana è dedicata soprattutto a queste persone Con l'obiettivo nel 2020 Di mettere in movimento più del 20% dei cittadini europei E quindi fare diventare persone attive Questo è l'obiettivo della Muic, diciamo, dal 2012 ad oggi Ma è legato all'andamento dell'economia All'andamento del movimento Visto che dice che i peggiori siamo noi, la Grecia e il Portogallo Ci sono più fattori C'è un dato anche culturale Perché spesso e volentieri Quando si parla di sport, di movimento, di attività motoria Si intende soprattutto la pratica delle discipline Non la cultura del movimento in sé Ma sicuramente il dato economico È quello che particolarmente incide Nel nostro caso Spesso e volentieri intervenire Su un dato macroeconomico Vuol dire far scegliere alle famiglie Di non far praticare sport ai propri figli O anche per se stessi, ai genitori O anche se si tratta in questo caso di nonni O di persone della terza età O della quarta età Come si dice oggi È un fattore economico sicuramente incido E una volta si diceva Poveri ma felici, poveri ma belli Invece poveri ma obesi Allora, a proposito di famiglia Manco C'è un dato Il 38% dei bambini tra i 6 e i 10 anni in Italia È sovrappeso Se non addirittura obeso E pare che una delle questioni Sia che i genitori Le mamme in particolare Non riconoscano questa cosa Cioè non siano in grado di accorgersi Quando il figlio è a rischio obesità È il paradigma dello scarrafone questo È il paradigma dello scarrafone Ma come mai Cioè in effetti però Come io Se penso ai bambini Della scuola di mia figlia Viola Che ha 8 anni Quando li vado a prendere all'uscita E guardo Non vedo un 38% di obesi Come si riconosce l'obesità di un bambino Ci vuole il pediatra O basta la bilancia Allora sicuramente ci vuole il pediatra La bilancia è un fattore Un indicatore E io credo che insieme Sicuramente diciamo Al sostegno medico scientifico E quello che invece è il sostegno empirico Di una bilancia Vada affiancata appunto Una cultura sportiva Quindi un'associazione sportiva Un ente di promozione sportiva Le stesse federazioni direi Anche se poi già lì Entriamo dentro diciamo I livelli tecnici proprio disciplinari Ma la cultura del movimento È un insieme di queste tre componenti Soprattutto chiaramente anche la scuola Che gli istituti scolastici Nella BUIC Sono abbastanza presenti Nelle varie iniziative Di questa settimana Io credo che ci sia la necessità Di un intervento intersectoriale Per poter comprendere bene Quando un bambino o una bambina Comincia ad essere in sovrappeso E quindi ha bisogno Di un'attività sportiva Di stili di vita attivi Che lo aiutino A crescere sicuramente meglio A migliorare la qualità della vita Un evento Manco Un evento particolare Di questa Move Week Che sta per concludersi Tra l'altro Che ci vuol segnalare Allora noi abbiamo In questo fine settimana Un cammina e corri a Brescia Insieme a un mountain bike Civitale del Friudi Domani invece domenica Una corsa tra i boschi a Rieti E vicino a 2019 a Caserta La corsa nei boschi a Rieti Mi sembra molto affascinante Grazie Manco Grazie a tutti